Cinghiali sempre più cittadini, a Cale e a Gubbio, in particolare nel quartiere di San Martino, dove ormai gli avvistamenti sono quasi quotidiani e postati sui social. L'ultimo in ordine di tempo risale un paio di settimane fa, quando un esemplare di cinghiale è stato filmato mentre rovistava negli scarti fuori a un locale tra Piazza Busone e Via Cavour. Ma non è l'unico. Qui siamo in via dei consoli e la scena sembra ripetersi in maniera analoga, un cinghiale fruga tra gli scarti di un locale destinato al servizio di raccolta rifiuti. Risale a qualche tempo fa il video del cinghiale che gironzola nell'area di Sant'Agostino in via Dante. A maggio invece gli avvistamenti si sono concentrati nei pressi del teatro comunale. Il tema cinghiali è particolarmente sentito e sul tavolo delle istituzioni da tempo. Proprio in questi giorni, l'assessore regionale alla caccia Roberto Murroni ha incontrato le squadre cinghialisti dell'Umbria e hanno discusso alcune modifiche al regolamento regionale relativo alla caccia al cinghiale. Proprio per contingentarne ancor più la loro presenza, incrementando la capacità di abbatterli. In particolare, le richieste sono state la diminuzione da 20 a 15 del numero minimo di cacciatori per le battute. La possibilità di inserire in ciascuna battuta un numero massimo di cacciatori non appartenenti alla squadra pari al 50% dei partecipanti alla battuta stessa e la possibilità di effettuare battute congiunte tra le squadre senza alcun tipo di limitazione e di autorizzazione preventiva. L'intenzione è di rendere operativo questo piano entro un mese.